A Torraca, come ormai da tradizione, ogni anno, la sera della Domenica delle Palme, la parrocchia di San Pietro Apostol, sotto la guida spirituale del giovane parroco Don Francesco Alpino, revive in maniera intensa il mistero della cruce. E lo scorso 9 aprile si è assistito alla rappresentazione della Via Crucis Vivente, intitolata Le Sette Notti di Gesù, interpretata esclusivamente da giovani, una messa in scena itinerante ed emozionante che è commosso non poco i numerosi fedeli intervenuti. Una Via Crucis diversa dalle altre, infatti, anziché seguire il classico schema delle 14 stazioni, si è scelto di rappresentare sette scene del Vangelo avvenute di notte. In sette punti suggestivi del paese sono state rappresentate il dialogo tra Gesù e Nicodemo, l'agonia nell'orto degli olivi, l'ultima cena, la condanna a morte nel pretorio di Pilato, la crucifissione, morte e deposizione della croce e la risurrezione. Durante la sacra rappresentazione sono state utilizzate anche due antiche statue di fine settecento, non utilizzate da più di cinquant'anni, raffiguranti il Cristo morto e la Vergine addolorata. Il parroco, ricordando la morte di Cristo nell'indifferenza totale di Gerusalemme, ha esortato i fedeli a pregare per le tante vittime del terrorismo, uomini, donne e bambini che spesso muoiono tra l'indifferenza totale del mondo.